Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo all'episodio numero 27, ci avviciniamo all'episodio numero 30 signori Tanta roba, vuol dire che per 30 giorni, per un mese, sono usciti gli episodi di questa serie Vanillatines E questo mi fa molto 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 piacere, anche perché sono comunque seguiti e questo mi rende molto 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 contento Allora signori, cosa facciamo oggi? Come avrete penso capito dal titolo, oggi abbelliamo un pochino il nostro mondo Sarà un episodio un po' più lungo? Forse sì, forse no, non lo so Per prima cosa, staccionate, perfetto, facciamo qualche staccionata Me la devi fare di dire, oh, no, me la devi fare, porca miseria Di questa me la devi fare, oh, fammene un paio, perché non so quanto è largo l'albero della vita Fammene un 8 e non se ne parla più Facciamole tutte, dai così, piglia le tutte Forse 24 sassai, forse, non lo so, non lo sappiamo Però, per prima cosa, mettiamo in sicurezza l'albero della vita, signori Uno, che abbiamo iniziato l'altra volta e poi l'abbiamo lasciato un attimino così In 13, cercando sempre di non cadere, che è una cosa abbastanza facile per quanto mi riguarda Non si rompono le liane, interessante Interessante, interessante Ok, perfetto, questi cartelli li sposteremo, faremo una nuova zona, anche perché questo neanche si legge più Che è quello che mi aveva suggerito Alex di chiamare la ranocchia Peppe Faremo anche questo, sì, faremo anche questo Ora, questi due li leviamo perché non mi piacciono Questi due blocchetti di qua li leviamo Blocchetto 1 e blocchetto 2, li perdiamo? Sì, fa niente? No Questi mettiamo insieme Facciamo un attimino qua la strada, intanto, in sicurezza Ok, questa purtroppo dobbiamo tagliarla qua E anche questa dobbiamo tagliare qua Non vi preoccupate, è tutto organizzato Intanto arriviamo fino in fondo col doppio, col doppio questo di qua Ok Qua, la fontana la voglio fare qui Dobbiamo un attimino capire come farla Prima, prima però voglio Allora, allora, questo è cresciuto Allora, segnali, stiamo calmi Dobbiamo anche recuperare le cesoie Le prendiamo tutte e due perché dobbiamo recuperare Tanti, tanto fogliame Perché dobbiamo fare anche una sorta di copertura Alla nostra zona degli incantesi, signori Non la possiamo lasciare così Però io non posso saltare sulle fence Non è novità Dico Sono scemo io Ok Facciamo due Tre E penso che qua già vada bene Perché anche se saliamo con un'altra libreria La mettiamo lì Ma veramente forse con tre librerie Già mi basta il L'Ambara Dan Penso di sì Penso che con il giro di due librerie Dovremmo già raggiungere L'obiettivo massimo Dei trenta livelli E Muccozza Devi spostarti un po' Poco non cadere però Muccozza Sei preziosissima Muccozza Mi manca solo Me ne manca solo una Porca miseria Mi manca solamente uno Allora facciamole nuovamente Non mi ricordo mai come si fanno Quindi facciamo direttamente Staccionate Facciamo così Facciamo così Ne recuperiamo tre Va bene tre Per il momento tre Dovrebbero bastarci Sì Vi voglio Abisodio tranquillo Signori Ci abbelliamo un attimino Il mondo Effettivamente potremmo mettere anche Anche l'incudine A protezione Io direi proprio di sì Smonta questa incudine Ok Smonta questa incudine E me la metti Qua Sempre però rivoltanti Da questo lato Così Perfetto Gli altri due paletti Li mettiamo Uno Due Tre Paletto E l'altro paletto Lo mettiamo qui Quindi me ne mancano Me ne mancano giustamente Altri quattro Altri quattro Altri quattro Facciamo altre quattro staccionate Giustamente io Non mi ero fatto giusto il calcolo Sto facendo tutto molto Alla luce del sole 3 3 6 Mi sta a fine il legno Sì Va bene Ora con calma Valuteremo tutto quanto Il da farsi Intanto questo trasforma Tutto e quindi Il legno l'abbiamo recuperato Senza alcun problema Qui intanto mi sta cuocendo Con uno di lava Già ho cotto 36 Lingotti Di rame E non è male Signori E non è male Non è per niente male La muccozza continua a girare Per i fatti suoi Siamo contenti che si sia Ambientata E questa è una cosa buona E carina Ok Prima di fare questo Quindi ora qui Andiamo a mettere il tetto Tutto con il fogliame Che recuperaremo intanto Da quest'albero Senza ombra di dubbio Così Evitiamo di andare a distruggere Alberi A destra E a sinistra Recupera 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 Mi basteranno mai queste foglie Non penso proprio Però E' sempre Un inizio Signori E' sempre Un inizio Posciamo prenderle tutte Anche perché Le sono cadute Di da sotto Sembrerebbe di no Quante le abbiamo prese Finora 38 Pochissime Rispetto a quelle Che ci serviranno Però E' sempre un inizio Signori E' sempre un inizio 38 Dopo Avendo preso Le foglie Di quest'albero Non potremo Andare a levare Le foglie Dai rami Che ci sono Dagli alberi Che ci sono Praticamente Qui Però ne abbiamo Già 64 E altre 6 Diciamo che qualcosa Secondo me Riusciamo a fare Non tantissimo Però qualcosina Riusciamo Una piccola covertura La riusciamo Già a fare Secondo me Perché se io Ora questo Lo piazzo qui Ok Quanto meno Vediamo se riusciamo A fare tutto Il bordo Senza però Che mi ammazzo Sarebbe già Un passaggio Importante Non sarà Un tetto Particolare Ma siamo sempre Su una casa volante Signori In mezzo al giardino In mezzo Alla 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 palude Quindi diciamo Usiamo anche un po' Di fantasia Se riuscissi però A fare anche solo Il bordo Tutto a giro Sarebbe una cosa Molto carina Sì perché Mi sono reso conto Ecco vedete Cioè abbiamo la stanza Degli incantesimi Al cielo Al sereno Praticamente Quando piove Ci si bagna Ci si bagna tutto Invece così Dovremmo un attimino Ecco Mettere in protezione Mettere in protezione La zona E tutti i nostri libri Signori Oh Perfetto Copri 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 Bello così Ok Quindi qui ora Non dovrebbe più Piovere Diciamo che il limite Della stanza Degli incantesimi È protetto Possiamo fare un giro in più Ce l'abbiamo Sì facciamo un giro in più Così Dai Così Ok Quanto o meno di qua Siamo tranquilli Siamo tranquilli Ok Ok Quanto o meno qui sotto Non piove più signori E questa già Oddio Un po' con l'acqua passa Però non si può avere Tutto dalla vita Non si può avere Tutto dalla vita Ora Vediamo se riusciamo a dormire Se no andiamo avanti Col secondo progetto Riusciamo a dormire No Posso dormire solamente Di notte E allora Andiamo avanti Con il secondo progetto Signori Visto che la farm Quella di Di lava Funziona Noi ci andiamo a fare Un'altra farm Di lava Signori Andiamo ad allargare Il La produzione Andiamo ad allargare La produzione In maniera molto semplice E pratica Allora Intanto Allarghiamo qui Allarghiamo qui Ok Dobbiamo mettere Uno di questi qua Dobbiamo mettere Uno di questi qua Non la torcia Scemo Devi mettere Uno di questi qua Perfetto Per ora Mettiamo questi Perché non ho Nether brick Ma li sostituiremo Successivamente Ok Perfetto Dobbiamo Intanto Andare a creare Un calderone Che mi sono Completamente Dimenticato Del calderone Che se no Dove la raccogliamo La lava Da nessuna parte Signori Da nessuna parte Non abbiamo proprio Dove raccoglierla Allora Un calderone Ciò significa Consumare Altro ferro Per fortuna L'abbiamo trovato In maniera In quantità A use All'altra volta Quindi Bisogna 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 consumarle Signori Bisogna Consumarle Mettiamo Il calderone Qua Perfetto Col secchiello Recuperiamo Questa lava Di qua Ok Passiamo Qui Senza Cadere male Recuperiamo Questo Anche se non Penso Che riusciamo A recuperarlo E infatti No 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 Dove sta andando Dove sta andando Non ci posso mettere Il legno Perché il legno Prende fuoco Brutto Scemo Quindi scusate Aspettate un attimo Questo Per chiudere E ci metti Questo Ok Mi si è distrutto Il calderone No Per fortuna No Ora Attenzione Stanno a coccionare Tutte e due Ah interessante Però io nel dubbio Ci metto anche L'altro secchiello Di lava Così Vanno a pari Ed è sicuro Che funzionano Quindi mi servono Uno Due Tre Tre Nether bricks Ok Quindi sono Quattro Otto Dodici 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 Ne dobbiamo cuocere Dodici Signori Il problema È che mi sa Che la farm Però sta ancora Cucendo Infatti Qua si sta ancora Cucendo il ram No l'ha finito Allora Mettiamo a cuocere Questo recente Con quel poco Che è rimasto E possiamo fare I blocchi di rame Dici perché devi fare I blocchi di rame Perché la fontana La faremo Di blocchi di rame Signori Potremmo farla Di blocchi di rame Blocchi di quarzo Così da alternare Due colori particolari Qua se ne abbiamo 41 blocchi Quanti 41 Vabbè Sì ci siamo capiti 41 così Quanti blocchi Riesci a farmi Non si fa così Ma si fa così Dai 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 Ok Quindi questi Me li metti pure qua E riesci a farmene Va Dai Comunque 9 Ne possiamo fare un altro Ne facciamo un altro E siamo a 10 Ok Non è male Non è male Ora riesco a dormire Sì ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta a dormire Signori Ce l'abbiamo fatta a dormire Quanti me ne hai fatti 5 Eh Mi sa che non ce la facciamo A cuocere tutto Ok Dove la facciamo La fontana Allora La fontana Io pensavo di farla qui Eh Però è che non ho ben chiaro Ben precise le misure Questa è già una cosa Che non va bene Non va bene Vogliamo farla grossa Piccola Dobbiamo farla Eh Non ho ben chiaro Le 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 Quindi C'è un attimino Bisogno da 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 Capire Come Strutturarla Questo Già Sarà Divertente Da 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 Capire Ho detto Che è divertente Da capire Sì Forse sì Forse no Allora Allora Stiamo calmi Qui non abbiamo alberelli Perché giustamente Li abbiamo Uccisi tutti Con Mettiamo questi qua Normali Però Sì Mettiamo questi A questo Giro Mettiamo questi Così Abbiamo Legno Questo qua Ok Questo di qua Che abbiamo Raccolto Che non vedo Dove è il legno Che abbiamo raccolto Dove è il legno Che abbiamo raccolto Sono ciecato Dove è il legno Che abbiamo raccolto Abbiamo raccolto Del legno Sì Perché non lo vedo Perché me l'ha messo Insieme a questo Genio del male Ok Ok Vediamo un attino Cosa riusciamo a fare Mucca Spostati Io direi Io direi Io direi Che ci allarghiamo Di Potremmo anche farla Un gradino più alto Che dite Dobbiamo farla Così No Poi farla Alta Ok Dici ma cosa serve La fontana Niente Abbiamo da appellire Semplicemente il mondo E Vieni a farla Tre blocchi Un blocco Tre blocchi Un blocco Quindi dobbiamo Facciamo effettivamente Il disegno Quindi Tre blocchi Partendo da qua Non si può fare Quindi dobbiamo farla Per forza Quattro blocchi Ok Poi facciamo Un blocco Di così Poi facciamo Altri quattro blocchi Però non così Uno Due Tre E quattro Ok Quattro blocchi Quello di stacco E poi altri Quattro blocchi Di qua Uno Due Due Tre E quattro Quello che chiude In diagonale Ok Tra l'altro Li sto mettendo sotto Tutti questi blocchi Che mi potevano servire Per far Infatti Per far diversità Del coso E vabbè Superforo Oramai abbiamo utilizzato Questo Uno Due Tre E quattro Il blocco Sotto I seri incollini Del mouse Il blocco sopra E poi Uno Due Tre E quattro Ok Ci siamo All'interno Mettiamo tutti questi Di qua Che tanto Non servono A nulla Perché tanto Qua ci andranno I blocchi Che abbiamo messo Di là Qua ci andranno I blocchi di rame Signori A fare tutta La cornice Della nostra Bellissima Fontana Quindi Quindi Datemi Il rame Che non mi basterà Mai nella vita Ottimo Bene Solamente sette blocchi Che ci dovrei fare Io so con Solamente sette blocchi Mi sa che il progetto Della fontana Sarà più lungo Del previsto Devi cuocermi Altro di questo Senza ombra Di dubbio Allora Buttiamo le basi Signori Buttiamo le basi Buttiamo le basi Senza paura Senza paura Quindi abbiamo detto Abbiamo detto C'è qualcosa Che non mi torna Ho sbagliato qualcosa Decisamente sì Sì Decisamente sì Decisamente sì Decisamente sì Ho sbagliato qualcosa Mi manca qualcosa Mi mancava un passaggio Mi mancano quattro blocchi Di qua Uno Due Vabbè sì Stiamo seditando Tre E quattro Ora Ora ci siamo Ora ci siamo Ora Ora sì Ora sì Ora sì Che prima no Come direbbe il buon Surri Questi li devi Ci mettiamo questi di qua Perché sennò Mi si Continua da sbagliare Uno due tre Questo non ci deve essere Questo deve essere Il legno normale Come Idem Questo Ok Abbiamo fatto le basi Abbiamo perso un pochettino di tempo Non ce l'avevo capito nulla Però ci siamo Ci siamo Ok Questo è il disegno Della nostra fontana Signori Abbiamo Quattro blocchi Al centro In cui andrò a mettere Sì Direttamente Il nostro quarzo Ok La possiamo fare più grossa? La possiamo fare più grossa? No E poi a giro Mettiamo I nostri bellissimi Blocchi di rame Che ovviamente Non mi basteranno mai Perché modestamente Già sono finiti Ok Non è bellissima È proprio brutta Signori A parte il fatto Che il legno sotto Sia di colore diverso Mi dà già fastidio Così Già mi dà Mi dà fastidio Così Pensa Qua potremmo Metterci blocchi di illuminite Tutti a giro Così si illumina Il sotto della vasca Beh 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 Facciamo una prova Facciamo una prova Tanto Qua si è fermata a cuocere Ok Quanti solamente tre Però vedete Quanto 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 siamo riusciti A cuocerne Metti 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 Questi li metti Di qua E che dovevo fare Ah L'aluminite Ne abbiamo 30 Quanti ne possiamo fare 7 1 2 3 4 5 6 Mi bastano 6 Non ero più polla L'idea Proveremo ora Velocemente Questo episodio sta durando Forse un pochino Di più Rispetto a quelli precedenti Però va bene Sì No Se mi bastano Se mi bastano Perché facciamo uno Facciamo due E mettiamo la Luminite Così si illumina E mi illumina anche il sotto Signori E siamo tutti contenti È uno spreco Sì È uno spreco È enorme È uno spreco enorme Però Lo facciamo Signori Peccato che mi mancano Mi manca Vabbè Mettiamo questi di qua Mi mancano Due blocchi di luminite Pensavo mi bastassero 6 Sono scemo Sono ignorante in matematica Signori Te ne servono 4 Allora io ho altri 6 blocchi Di quarzo Quindi io direi Intanto di salire Così E per ora va bene Ti piace mucca? Ti piace? Eh Ok Andiamo a ricordare Il rame Che ci rimane Vediamo Ne abbiamo fatti altri 8 Ok Vediamo quanti blocchi Riusciamo a fare Ehm Blocchi di rame No Che cos'è? Blocco di rame cerato Addirittura E scusa Il blocco normale di rame Dov'è? Blocco di rame grezzo Potremmo fare anche Blocco di rame grezzo Chi se ne frega Non abbiamo fatto questo Dov'è il blocco di rame normale? Non si sa Ehm Rame Oh perfetto Uno solo Uno solo Mamma mia Ci stiamo una vita a completare Sta Sta cazzarola di cosa Va bene Ehm Diciamo che funziona Recuperiamo il primo secchiello d'acqua Che ce ne serviranno tantissimi Qui già si è creata nuova lava Mamma mia Guarda come si è creata nuovamente la lava Bello Bello Mi piace Mi piace Mi piace Però io ho due secchielli Se non sbaglio Sì Quindi già due secchielli d'acqua Li possiamo creare Prendi 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 e porta a casa Prendi e porta a casa Torniamo su Torniamo su Torniamo su Ora eventualmente Off camera Signori Poi con calma Faccio la prova Ehm A sistemare il 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 Un po' quel pavimento Perché fatto così è veramente brutto Vediamo Questo legno lo sostituisco Vediamo un attimino Di dare un senso a tutto quanto Qua potremmo metterci Due casse Per questa zona di qua Qua abbiamo messo una cassa qua sotto E va bene L'abbiamo messo una cassa per le rotaie Ok Qua c'è un'altra cassa Che ci sono dei blocchi da costruzione Che posso levare Perché non servono minimamente Vediamo quanto altro Rame siamo riusciti a cuocere Altri set Altri set Ringotti Fammi Il rame Ok Quante me ne puoi fare Sempre uno Ma che paranoia Andiamo avanti a uno a uno Ci arriviamo domani sera Andiamo avanti a uno a uno Arriviamo domani sera Va bene signor Piccolo taglio Piccolo taglio Vi 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 Evito praticamente Questo Questa rotola di scatola Del Del rame che cuoce Del rame che cuoce Ok signorini Ho completamente modificato Il design Della Della fontana Completamente Proprio non L'abbiamo cambiata Completamente tutta Basta cuocere Perché non mi serve più Tutto questo Rame Abbiamo decisamente Modificato Tutta quanta Il design Della Della fontana Ora Lo vedrete Non è più a due Di base Ma l'abbiamo fatta A tre Con un unico perno Centrale Lì Che non è per niente Bello Ok Diciamo che Non è proprio Una fontana Enorme Però Mucca Devi levarti lì Perché tra poco Lì arriverà Tutta l'acqua E Se non ricordo male Ora noi dovremmo Mettere l'acqua E lei tranquillamente Dovrebbe Mucca Te devi levare Devo inaugurare la fontana Levati 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 Non vuole cascare Scommentiamo che Cado prima io Che lei Levati Levati Ok Mettiamo l'acqua Lì sopra Perfetto E dovrebbe Espandersi In tutte le maniere Direttamente Ok Signori E' particolare Non è Non è Non è Non è Chissà che cosa Ma è la nostra fontana È la nostra fontana Signori Tanto lavoro Ma ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Detto questo Signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Aspettate Se riesco a evitare Di vedere Ecco qua Io e la mucca Vi salutiamo per questo video Che è tutto E noi ci vediamo domani Con un nuovo episodio Bella raga Ciao Ciao